Il premier ucraino Arseniy Yatsenyuk oggi in visita del presidente degli Stati Uniti Barack Obama per discutere la crisi in Crimea. Visita preceduta dalla condanna del congresso americano dell'intervento russo nella penisola. La Camera ha votato una risoluzione per denunciare la violazione della sovranità di Kiev e chiedere l'adozione di sanzioni economiche contro Mosca, ma il cremino resta per ora indifferente alla persona internazionale. Il segretario di Stato Kerry ha nuovamente insistito sulla volontà di continuare le discussioni con il ministro degli esteri russo Lavrov, ma in un quadro adeguato e con lo scopo di proteggere l'integrità e sovranità dell'Ucraina. Non abbiamo avuto un riscontro in tal senso nelle risposte finora ottenute, ha detto una portavoce del Dipartimento di Stato. Le difficoltà di trovare uno sbocco diplomatico alla crisi aumentano in virtù del rifiuto di Mosca di aprire contatti con Kiev. La mediazione di John Kerry, che ha incontrato Lavrov a Parigi la settimana scorsa, non ha per ora sortito effetti.